un saluto a tutti benvenuti nel mio nuovo canale oggi vi mostrerò un semplice trucco da poter fare a qualche amico prendiamo un mazzo lo mischiamo ora gli facciamo scegliere in che punto fermarci a qualsiasi punto facciamo vedere la carta mettiamo sopra il mazzo poi chiediamo di alzare tante volte vuole a questo punto noi saremo in grado di dirgli in che posizioni si trova la sua carta in questo caso sua carta sarà nella settima posizione 3 4 5 6 7 se il video vi è piaciuto iscrivetevi mettete mi commentate mettere mi piace quello che volete un saluto al prossimo video